Questa si chiama area protetta della Guidana, è un'oasi voluta dal comune, è un'oasi protetta per modo di dire perché qua chiunque può entrare a far danno. Il fatto è che negli ultimi anni mi hanno ucciso i cani liberi, due occhi e quattro anatre. Questa oca che è morta questa mattina probabilmente è stata uccisa anche lei abbastonata dagli umani. Poi è arrivato anche l'animale selvatico, il predatore, ma un altro modus operandi, cioè il predatore squarta l'animale e mangia l'interiore. Il cane sbrana. Ora questa oca qua che è stata appesa abbastonata non può essere stata uccisa diversamente che con i bastoni che sono qua da vedere. Allora quello che chiedo io è solo rispetto per gli animali perché a fin dei conti questa è un'oasi dove vengono migliaia di persone. Poi su migliaia di persone è ovvio che gli imbecilli sono pochi, molto pochi, ma sono quelli che fanno il danno. La maggior parte della gente fruisce di questo posto in modo ordinato, in modo corretto. I bambini, io a volte ho dei pullman anni 50, 60 bambini che vengono qua a giocare, vedono gli animali, animali che non hanno mai visto e che qua vedono. Ora quello che chiedo io è semplicemente rispetto per gli animali, rispetto per le persone che ci vengono, rispetto dell'ambiente. Basta tutto qua, rispetto. Proprio la parola finale, la chiusura è rispetto.